Ad un giorno dalla scadenza, dall'Unione Europea, è arrivata la conferma. La vendita delle quattro good bank, nate dalle ceneri di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara, è stata prorogata. La Commissione Europea ha tenuto a precisare che l'operazione è in linea con le norme dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato. La nuova scadenza, come quella precedente, non era stata resa nota, spiegano da Bruxelles, allo scopo di proteggere l'efficacia del processo di vendita. Intanto a Pisa oggi è andata in scena la contestazione al Premier Renzi, in realtà collegato in video con il CNR, per i 30 anni dell'arrivo di internet. Tra studenti universitari è anche il corteo dei risparmiatori azzerati di Banca Etruria, partiti da Arezzo e da altre città, che con l'Associazione Vittime del Salva Banca è aderito alla manifestazione. A Pisa ci sono stati anche scontri con la polizia, ma nessuno degli aretini è rimasto coinvolto. Anche a Castiglion Fiorentino si è parlato di Banca Etruria. Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione portata dal sindaco Mario Agnelli, con la quale si impegna a costituirsi parte civile nei futuri processi contro gli ex vertici di Banca Etruria.